Bella a tutti e friends e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite Prima di partire con questo video vi ricordo all'interno del negozio oggetti supporta un creatore rasco-omg Un grazie in anticipo a tutti quelli che mi supporteranno, se volete tramite direct di Instagram inviatemi la vostra foto Dove appunto mi supportate all'interno dello shop così magari io potrò ripostarla all'interno delle mie storie Comunque uno dei più affermati, Likers canadese, ha affermato che chiunque utilizza rasco-omg all'interno del proprio supporto a un creatore Ha il 5% in più di vittoria Io per non sapere né leggere né scrivere sono andato appunto ad inserire rasco-omg all'interno del mio shop Vi piazzo subito queste immagini perché questo è un video bomba signori Guardate un po', questa qui la conosciamo tutti, è una delle schermate di caricamento del gioco È un'immagine che a me piace veramente veramente tanto e questa immagine ci rivela tantissime novità che verranno implementate all'interno del gioco di Fortnite So che la maggior parte di voi già si è incentrata sull'arco, anzi no, sto dicendo una sciocchezza Perché vi avrò già spoilerato tutto sul titolo e sulla copertina del video Quindi non perdiamoci in chiacchiere e vi faccio vedere subito dov'è questo nuovo veicolo Anzi, indovinate un po' dove si trova Vediamo un po' se qualcuno tra di voi già l'ha notato Aspetto qualche secondo e il veicolo è esattamente alle spalle di Legolas in versione femminile Eccolo qui, come vedete è una mega sfera gigante Sembra darci già qualche dettaglio questa immagine Infatti davanti sembra avere un foro e sembra anche avere al suo interno una seduta Appunto è una sfera rotonda E io appena ho visto questa immagine di questa sfera L'ho subito ricollegata a un altro veicolo per la mobilità Non presente in nessun gioco ma presente in un film Presente all'interno di Jurassic Park Eccola qui, questa sfera era a due posti Infatti come potete vedere dall'immagine ci sono appunto i due ragazzi all'interno di questo veicolo Ed io penso che sarà proprio uguale o quantomeno simile E questo nuovo veicolo che vedremo presto all'interno del gioco di Fortnite Come si vedeva dall'immagine precedente Credo che invece che essere a due posti sarà a monoposto Quindi solo una persona potrà guidare questa nuova sfera Una curiosità che vi voglio far vedere Che moltissimi tradivi mi avete scritto Ma che cosa sono questi oggetti presenti nel terreno nella mappa di Fortnite? Sono un po' sparpagliati in tutta la mappa di Fortnite Queste cose metalliche E diciamo che Fortnite si è un po' anticipata Infatti questi oggetti cilindrici non sono altro che le ricariche per questa sfera Io ora vi dico le ricariche e non so esattamente quale funzione avranno Comunque vi faccio vedere questa stringa Infatti ci dice Ball Charger Cioè le ricariche per questa sfera Ora non so se avrà un tempo limitato l'utilizzo di questa sfera E quindi la dovremo andare a ricaricare Oppure la troveremo direttamente sopra questi caricatori metallici Non so, non so dirvi di più Comunque nei file di gioco quei cosi metallici appunto questi qui Sono rappresentati come Charger Baseball Cioè la base di ricaricamento per questa nuova sfera Per questo nuovo veicolo per la mobilità introdotto Che sarà introdotto nel gioco di Fortnite Io non vedo già l'ora di utilizzarlo Perché sarà sicuramente qualcosa di stra stra figo Non so se avremo la possibilità di sparare Non so magari implementeranno due mega minigun ai lati Ma non lo so credo che sto viaggiando troppo Però sicuramente saremo protetti interamente Da tutti i spari, da tutti i lanciarazzi Da tutte le granate che ci verranno lanciate Ma non credo che avremo la possibilità di sparare Se appunto questo nuovo veicolo sarà come il veicolo presente all'interno Del film di Jurassic Park Perché non ci sono fessure e né niente Vediamo un po' appena lo implementeranno Mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche Perché appena escono ulteriori novità Ve le porterò subito all'interno di questo canale E fate girare questo video con tutti i vostri amici Almeno anche loro Vengono a conoscenza di questo nuovo veicolo stra figo Stupendo Che verrà introdotto nel gioco di Fortnite E come vi ho detto non vedo l'ora Sono troppo curioso di vedere come sarà E se possiamo sparare o meno Se mettono due minigun ai lati Regà sarebbe stra stra figo Ma non credo, non credo, non credo Signori lasciate un bel mi piace per questa notizia In anteprima che vi sono andato a dare Condividetela mi raccomando con i vostri amici E come già vi ho detto Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina delle notifiche Per non perdervi nessun video Notizia, curiosità Legata al mondo di Fortnite Noi ci vediamo più avanti Con un altro nuovissimo video E... Le belle mesami Noi ci vediamo più avanti Noi ci vediamo più avanti